Una strana situazione per fare uno strano appello, ma io volevo chiedervi di aiutare Angelo Cretella a fare il suo nuovo film, Svanire. Io ho visto Emilio, il film precedente, fatto con Alessandro lanciato alla fotografia ed era un film veramente bellissimo, fatto con pochi soldi e con molta passione. Il nuovo film, io l'ho letto, è ancora più bello. Allora vi prego, facciamo qualcosa per aiutarli. Hanno bisogno del nostro aiuto.